Liebe Damen und Herren, Schönen guten Abend, con il vostro Adler, 19-19-85 Marco, Lazio che è del Monaco, dal cuore della Baviera e dal cuore di Monaco, per tornare a parlare no, no ragazzi stasera, e spero di non deludervi, ma non voglio fare questo video per parlare di Lazio, a letto del fatto che domani col Twente è una partita molto importante, è una partita delicata che la Lazio deve affrontare al meglio e che dirà molto sul proseguito del cammino europeo della Lazio, ne parleremo ovviamente nel post partita domani direttamente dal club come sempre, però porto questo video oggi perché da qualche tempo ho qualcosa che mi preme in testa, da qualche tempo ho delle cose che vorrei condividere con voi, ovvero di recente, negli ultimi mesi in realtà è già successo svariate volte, persone molto vicine a me, parlo di amici e parenti, parlando del canale, quindi dicono che è bello, il canale piano piano cresce, sarebbe bello che crescesse ancora di più, bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quest'altro, bisognerebbe modificare, insomma si è parlato di tanti aspetti, da quello tecnico, quindi da una miglioria della qualità audio-video per esempio, che però è una cosa di cui poi ne occupero io anche nel momento in cui magari riuscirò a portare qualche contenuto in più e ne parlavamo proprio qualche settimana fa qualcuno di voi, io vorrei tanto portare alcuni contenuti in più ragazzi, però a volte un po' troppo poco tempo e un po' troppa pigrizia, lo ammetto, non riesco, eppure di idee c'è no, perché c'è no tante volte di argomenti che vorrei discutere con voi, però magari uno arriva a casa tardi e diventa difficile poi a metterla a fare, calcolate questo video è più di mezz'ora che sto cercando di farlo, perché poi mi impapocchio mi dico come cosa, quindi io ricomincio, vabbè, facciamo perdere. Però nelle modifiche o nelle migliorie che mi sono state suggerite, una delle cose che mi è stata detta, una delle critiche che mi è stata mossa è quella al nome del canale, perché Adler191985 è effettivamente un nome che ti porta via un minuto e mezzo soltanto per pronunciarlo, quindi ogni video che faccio ha bisogno di un minuto e mezzo per potermi presentare, e è un nome effettivamente un po' troppo lungo, un po' spicoloso, poi il fatto di usare la parola München, che non è già facile di per sé da pronunciare, accompagnato da sto 1985, insomma, rende tutto un po' più difficile, un po' più macchinoso nel presentarlo. E la cosa mi è stata detta, dai un nome un po' più morbido, un nome diverso, anche diretto, ma che non sembri un nickname di un videogame, peccatisse. La mia idea, l'unica cosa che mi è venuta in mente finora è stata quella di eliminare i numeri, eliminare il fattore numerico, quindi non chiamarmi più 1985, che poi sarebbe andato il mio anno di nascita, che non penso sia così rilevante ai fini del canale, e di lasciare soltanto quelli che poi sono i due concetti principali, ovvero Adler e München. Adler, per chi non lo sapesse, è la traduzione italiana è Aquila, Adler in tedesco si dice, Aquila in tedesco si dice Adler, che ovviamente è il nostro simbolo, non devo qua spiegarlo io, e München, che è la città dove vivo, dove coadiuvato dai soliti amici, che dicevo anche tempo fa, ho fondato questo Lazio Club, e dove cerco di portare in alto il nome della Lazio, lazializzando tutto quello che mi capita a tiro. Quindi, diciamo che questi sono i due concetti che io vorrei mantenere nel nome, Adler-München. Tante volte succede anche che sono invitato a qualche altra live, o qualche trasmissione, in cui chi mi deve presentare ha di per sé già difficoltà a pronunciare tutto questo, quindi mi chiamano magari solo Adler, o Adler-München, o Adler da Monaco, quindi, non so, credo che Adler-München possa essere una soluzione vincente, già è un po' più stretto. Avevo pensato pure a fare Adler-München, però devo dare delle spiegazioni, perché München è l'abbreviazione che viene data a Monaco del Baviera, in generale, sulle targhe delle recette, in realtà, perché fino a pochi mesi fa era solo la M, da poco, da qualche mese, il Comune ha deciso di fare queste targhe, ho scritto M-U-C, M-U-C, che è l'abbreviazione di Monaco, però mi sono pure detto, io lo so perché vivo qua, chi vive qua magari lo sa, ma chi non vive qua, non stiamo parlando, penso al buon Giovanni, non stiamo parlando di New York, che è una grandissima metropoli, una dei più grandi metropoli del mondo che esiste, quindi come uno sente N-U-C, viene subito in mente, ah, New York City, perché è New York, ragazzi, è una città incredibile. Monaco, per quanto abbia, anche lei è una cassa di risonanza molto grande, per quanto è una città molto turistica, in cui si fa tanto, molto molto bella, come è sempre detto, non avendo la popolarità, l'impatto che ha una città di New York City, se io dico a qualcuno, so Adler Muck, mi dicono, è Muck che significa, tipo, che ne so, mucillagine, qualcosa del genere, e allora, piuttosto che sta sempre gli a spiegare che significa Muck, io so Adler Munchen, punto. Idea mia. Ora, il video lo faccio perché voglio sentire anche le vostre idee, voglio sentire i vostri pareri, voglio sentire i vostri suggerimenti, ragazzi, perché magari qualcuno tira fuori qualcosa di carino che può essere utilizzato per riedificare, per rieditare il nome di questo canale, quindi se avete dei suggerimenti, fatemelo sapere, non c'è problema, magari il suggerimento mi piace di più o di meno, vediamo un po', se può fare un miscuio di quello che viene detto, oppure semplicemente mi dite, no, guarda, Adler Munchen va benissimo, oppure, no, a me piace a 1985, insomma, voglio sentire il vostro parere perché, come dicevo all'inizio video, questo è il nostro canale, cioè, io so qui, grazie a voi, che se non avessi un pubblico, non mi metterei davanti alla camera a fare video per me stesso, morai dalla favola, dinemi che cosa pensate di questa idea di cambiare il nome, il nome, il nome, di questa idea di chiamarlo solamente Adler Munchen, e se avete suggerimenti, iscrivetevi, ragazzi. Detto questo, io ora vi saluto, che vado a cena, e ricordatevi che al di là di come mi chiamo io, che non è la cosa più importante, no, perché la cosa più importante, ragazzi, è sempre e solo Forza Lazio.